Om Shri Sai Ram Offriamo i nostri più amorevoli salute e divini piedi di lotto di Bhagavata. Cari ascoltatori, innanzitutto un felice compleanno ad ognuno di voi. Ci fa un immenso piacere unirci a voi in questa occasione così gioiosa del compleanno di Swami. Tutti noi devoti di Swami abbiamo una lunga lista di cose per cui essere grati. E proprio il cima alla lista siamo grati proprio per questa giornata, il 23 novembre, perché è proprio in questa giornata che Bhagavata ha scelto di venire da noi assumendo questa bellissima e incantevole forma. Ricordo una bellissima citazione che Aurobindo scrisse nel suo poema Savitri e penso che colga magnificamente questa giornata per tutti noi. Egli dice Tutto il contenente era contenuto nella forma. L'unicità è stata scolpita in unità misurabili. L'illimitato è costruito in una somma cosmica, lo spazio infinito battuto in curva, il tempo è indivisibile in piccoli minuti, l'infinitesima massa da tenere al sicuro, il mistero della senza forma gettato nella forma. Wow! Penso che sia un modo bellissimo per descrivere il Supremo senza forma, scendere in una forma così bella e attraente. E spesso penso che Swami abbia dovuto scegliere una forma così bella affinché le nostre menti, così dedicate alle distrazioni, si allontanassero dal mondo e fossero attratte da questo amore supremo che egli è. E noi non saremmo mai abbastanza grati per questa opportunità di stare con tutti voi in satsanga per ricordare alcuni degli aspetti più belli del compleanno di Bhagavan, perché nel momento in spulsi dice che è il compleanno di Swami, la prima cosa che viene in mente è «Ok, cosa gli regaliamo?» E Swami diceva che è qualcuno che è venuto con la risoluzione che la sua mano si allungherà solo per dare e non per ricevere. In tal caso, persino durante il compleanno di Swami, la sua mano si allungava solo per dare e non per ricevere. E se diamo uno sguardo a quelle occasioni bellissime del compleanno di Swami lungo il corso degli anni, comprendiamo che quasi tutti i suoi compleanni Swami scelse di donare all'umanità qualcosa che ci sarebbe servito per collegarci a Lui sempre di più, qualcosa che ci insegnasse a vivere meglio la vita e qualcosa che ci rivelasse la natura essenziale. E cari ascoltatori e visitatori, ciò che faremo oggi, Biscio e Dio, è ritornare sul viale dei ricordi e rivelare alcune meravigliose gemme. Molti degli istituti che vediamo intorno al mondo di Sai e alcuni di noi sono fortunati perché abbiamo un piccolo ruolo in alcuni di questi istituti e molti di essi hanno dei collegamenti con il compleanno di Swami. Molti sono stati dichiarati e annunciati nel giorno del compleanno di Swami e inaugurati. E ricordando alcune di quelle occasioni e non solo perché sono stati attivati come istituti, ma perché Swami rivelò quale fosse la sua natura essenziale e ci rivelò che cosa si aspettava da noi. Quindi, invitiamo Biscio a prendere parte al Satsang con noi. Buon compleanno a te. Sì, buon compleanno a te. Sai, quando si parla dei regali che Bhagavan ha dato e continua a dare in questi anni, tu hai menzionato quanto Bhagavan ami donare e penso che le manifestazioni più grandi del suo donare, gli esempi maggiori, le dimostrazioni di quei doni li abbia dati durante i suoi compleanni. A livello sommario pensiamo al significato attribuito ad ogni istituzione e siamo felici ed iniziati di scoprire che ogni istituto ha avuto un momento magico nel suo compleanno. E prima di parlare degli istituti, menzioniamo Prashantinilayam, che è il sanctum sanctorum di questo divino omeletto, il Saikul Vantola, questa intera leggenda che Bhagavan, di cui Baba ci ha fatto grandissimo dono, questo spazio, questa energia. Persino oggi, ogni volta che si viene a Prashantin, soprattutto durante il compleanno, vediamo arrivare sempre nuove persone venire a Prashantin. Arrivano sempre nuove persone, donne, musicisti, e sono meravigliato sempre di come le persone vengano ad occupare questo spazio. Gente che non è mai entrata nel Saikul Vantola e non è mai entrata nel Mandira dicono tutti di sentire questa energia. Come ieri che c'è stato un concerto di Rajish Bia ed è la prima volta per lui, così come per il batterista, ha detto, ma mio Dio, c'è un'energia qui, ho suonato in molti posti, ma questo ambiente è qualcosa di diverso. Chiamatemi ancora che ritornerò. Noi abbiamo suonato in molti luoghi, ma sono tutti commerciali e non sono comparabili. Per favore, dateci di nuovo l'opportunità di venire. E questa è una cosa assolutamente inspiegabile e per tutti noi questo regalo di Prashanti che Swami ci ha dato è la madre di tutti i regali. E quando guardiamo a Prashanti, il compleanno di Bhagavanna è il 23 novembre, è proprio come il giorno di Prashanti. E oggi facciamo il Satsanga, che è il 23 di novembre, e celebriamo il 98esimo anno di compleanno ed è giovedì. e il 23 novembre del 50 era un giovedì ed era il giorno in cui Swami ci ha donato Prashanti in Iria. Ed era la festa di Chaturdasi e quel giorno Bhagavan fece una cosa meravigliosa. Ci fu una grande processione. Swami seguiva la processione partendo dal Patrimandir, il vecchio mandir, procedendo verso il nuovo mandir. E sapete, noi ora abbiamo il Rotsavam e portiamo Bhagavan sul carro d'oro, ma in quei giorni c'era la processione e la gente aveva la fortuna di portare Bhagavan sopra le loro spalle, seduto su questo palanchino. e c'erano fiori sul palantino. E mentre Swami procedeva, prendeva questi fiori che gli venivano offerti e rigettava i devoti. E sapete, quando si legge la descrizione di queste processioni, la gente camminava di fronte a Swami e camminava all'indietro. e Swami si preoccupava sempre per loro perché c'era il bosco e raccomandava loro di stare attenti. E ricevere quei consigli di Bhagavan è come rimanere focalizzati solo su Swami. Come dire, come se lui dicesse, se rimanete concentrati solo su di me, penserò io al mondo esterno e non preoccupatevi che non vi accadrà nulla. Mai. Loro trasportavano Bhagavan e i loro occhi erano fissi su Bhagavan. E Swami addolciva la giornata lanciando questi petali a mo' di doccia. Ma i petali non cadevano come petali, ma erano sospesi a mezz'aria, si trasformavano in caramelle, collane, medaglie, uvetta e noci e cose diverse. E ogni volta che i petali cadevano sul palmo di una persona si trasformavano in qualcosa che quella persona desiderava, apprezzando il regalo che Swami le faceva fatto appositamente per lei. Ed è in quel modo che quel 23 novembre del 50 si svolgeva la processione matutina. La processione fu fatta per raggiungere quello che oggi noi chiamiamo Sai Kul Bantola, il Manghiri di Prashanti. Swami disse, fermatevi e ci fu una lunga pausa. Swami prese un mucchio di fiori e li lanciò su tutti in quel momento mentre i petali stavano cadendo, essi si trasformarono in un oggetto. Si trasformarono in un ciondolo dove su una parte c'era l'immagine di Bhagavan di come lui era all'epoca e sull'altra parte c'era un messaggio. il messaggio è inscritto così stupendamente 23 novembre 1950 da Prashanti Nilayam. Il messaggio è perché avere paura quando io sono qui? Pensando a questo, Bhagavan ha donato Prashanti al mondo intero e ha donato questo messaggio che a mio parere è il primo profondo messaggio che Swami ha dato a tutto il mondo ovvero ho creato Prashanti Nilayam venite qui tutti sentitemi perché avete paura se io sono qui? E penso che sia il messaggio più potente al quale noi tutti dovremmo aggrapparci. Un messaggio che ci consola e ci dà forza per generazioni ed è il primo messaggio che ci ha dato. oggi il giorno del complanno di Bhagavan e Prashanti è la casa la casa di tutti e penso per anche molte persone devoti di Sai Prashanti sia la casa principale. Vero? Noi viviamo tutti in case differenti ognuno nei rispettivi paesi ma quelle sono case secondarie. Sai, dove vai quando si vuole celebrare? Quando si ottiene una promozione dove si va a celebrare? quando hai un bambino dove vuoi essere? Vuoi essere a casa. Quando ottieni un dottorato di ricerca dopo aver faticato per cinque anni dove vuoi essere? Vuoi essere a casa tua. Ecco perché le persone vengono apprascianti nei momenti più brillanti della loro vita perché stanno avviando qualcosa di nuovo o costruendo una nuova famiglia un nuovo affare un'avventura o una nuova relazione. Non solo quello si viene anche quando siamo spaventati per qualcosa. Esattamente è quello che stavo dicendo. Quando accade qualcosa di sfacevole si viene qui. Quando si ha qualche problema in ufficio poi si torna a casa non si riesce a divertirsi con gli amici. Quindi qualsiasi cosa accade nella vita si torna a casa. quando succede qualcosa un crollo in famiglia vuoi restare a casa. Quindi questa è la casa dove vorremmo essere. E tornando al giorno dell'inaugurazione quando quel 23 novembre arrivò quel messaggio arrivò quel messaggio perché aveva paura quando io sono qui e il giorno seguente il 24 novembre accade qualcosa di molto interessante. Infatti le celebrazioni di quell'anno durarono dieci giorni e ogni giorno c'era un programma culturale a pomeriggio. Quindi erano stati pianificati dei programmi e sappiamo che con Swami nulla è pianificato. Ogni volta c'è una sorpresa e Swami stava facendo un giro di Darshan quel 24 novembre e nella folla Swami vide la cantante Sarasvati Bai e le disse alzati lei si alzò e lui le disse cosa puoi cantare? E Swami le disse ok vai sul palco lei andò sul palco e Swami scese e disse ok puoi eseguire Sita Kalayam e lei disse no Swami piangendo come posso farla? Non c'è l'accompagnamento non ho alcuna preparazione come faccio da sola Swami? Non sono assolutamente preparata Swami cammina lungo il palco e ritorna tra la folla e vede un giovane di 25 anni e gli dice vai sul palco e poi il Darshan continua dopo un po' Swami vede un'altra persona di mezza età e gli dice di andare sul palco poi continuando vede una ragazza le dice vai anche tu sopra il palco tutti e tre vanno sul palco si siedono accanto a Sarasvati Bai e Swami va sul palco e poi indica un punto dove appare improvvisamente un violino sul palco poi un altro strumento appare e poi Swami dice ora iniziate e lei inizia a cantare e fa un'esibizione emozionante quindi casualmente il ragazzo che Swami aveva trovato era un violinista un violinista di 25 anni l'uomo di 35 anni che Swami prelevò dalla folla era un musicista di Mredinga e l'altra giovane ragazza era una cantante playback quindi tutti improvvisarono un'esibizione a sorpresa ed è così che si svolgevano i compleanni e penso che tutti noi possiamo testimoniare quante volte abbiamo visto nella folla cantanti come Dana Gillespie o altri andare sul palco ad esibirsi ma ogni momento con Bhagavan si svolgeva in quel modo ma è durante il suo compleanno che accadevano le sorprese più grandiose e c'è un'altra cosa mentre lei stava cantando alla fine di una parte del concerto era la cerimonia di questa Sita Kala Yanam dove si mettono al collo i mangali quindi arriva Swami e dice dove sono i mangali e lei iniziò a piangere così Sai Baba crea una sorta di ciondolo e prima ridaglielo prima ridaglielo soffia sopra il ciondolo tre volte prima era liscio su entrambi le parti dopo il soffio apparve un'immagine di Bhagavan sul lato e sull'altro apparve la scritta Sarasvati Bai Prashanti Nilayam 23 novembre 1950 wow grandioso sul palco c'era una statua della Madresita e del Signore Rama e di Lakshma e c'era Kalayanam ciò significa di buono era una cosa di buon auspicio per il benessere del mondo e Swami che è Shiva Shakti Svarupa aveva permesso quella cerimonia bellissima di unione della natura con l'essere divino e il modo con cui lo fece nel giorno del compleanno fu straordinario abbiamo detto che gli istituti di Prashanti hanno un collegamento con i compleanni di Swami e infatti ogni istituto celebra il compleanno nel Saikul Vantol nel Sanctum Sanctorum e anche il Saikul Vantol ha il suo compleanno infatti rappresenta la fonte e la destinazione di tutte le istituzioni e anche la stessa Prashanti Nilayam ebbe il suo momento di compleanno nel giorno del compleanno di Bhagavan beh ognuno può immaginare quali eventi importanti vengano celebrati una delle cose bellissime riguardo agli istituti di Swami come hai citato è che è davvero fascinante leggere come è stato costruito il mandir sappiamo che a quei tempi molte famiglie reali venivano in visita da Swami e se Swami avrebbe dato istruzione avrebbe fatto costruire in un attimo un palazzo come la maggior parte di questi mandir costruiti magnificamente un devoto veniva e portava per esempio il legno che era richiesto oppure il cemento ogni cosa che Swami voleva e penso che ogni istituto è stato costruito con il contributo di ogni persona che veniva e con l'espressione di amore e altruismo e parlando del modo in cui gli altri istituti furono costruiti successivamente anni dopo alcuni senior dicevano che i compleanni di Baba erano una sorpresa perché non si sapeva mai quale annuncio Swami avrebbe fatto infatti nel 1962 Swami fece un annuncio non era il compleanno ma erano le celebrazioni di Dasara e Swami disse nel mondo è in aumento l'ateismo e lo scetticismo e questo non può essere spiegato attraverso un argomento un discorso o una discussione e disse l'unico modo che potete fare per contrastarlo è promuovere coloro che si sono impegnati nello stile di vita e Swami disse mi sono dato questo impegno perché come direbbe Swami questa fa parte della sua missione avatarica Swami fece una bella analogia disse se vai ad un matrimonio ti siedi in fila e ti servono del cibo ci sarà questo ragazzo che verrà a portarti del laddu si avvicinerà pronunciando ininterrottamente laddu 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 ma non si fermerà da nessuna parte e non ti darà il laddu se ne andrà e quindi dice non serve mai ma proclama soltanto laddu 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 Swami dice che alcune persone parlano molto dell'importanza di promuovere i veda ma si comportano come quella persona che pronuncia la parola laddu ma non si china per metterla in atto e lui dice io non sono così agisco in base a ciò che dico farò qualcosa che promuoverà la saggezza vedica e disse ho deciso di iniziare un veda shastra patashala e Swami annunciò questo durante il suo compleanno e molti studiosi grandiosi vennero per partecipare a questo dasara yagna e disse queste sono le persone che insegneranno ai bambini l'essenza dei veda e iniziò tutto da zero con un piccolo gruppo di 30 studenti ma persino allora Swami puntualizzò un punto molto significativo quando lo inaugurò nel giorno del compleanno e gli disse questo è solo una piantina che è stata seminata e vedrete che crescerà diventando una università intendo dire che furono parole profetiche perché è molto facile per noi tornare indietro e dire oh Swami disse quello per quelle persone che erano lì a Prashanti Nila negli anni 60 loro sanno cos'era Prashanti e tutta la regione sapeva quanto era arretrata e Swami fece quella dichiarazione dicendo che sarebbe diventata una università e non una mera università e gli disse che questa missione che era stata iniziata si sarebbe diffusa in diverse parti del mondo e oggi sappiamo che si sono diffuse in Russia in Giappone in Croazia nei paesi dell'America Latina i devoti di Swami stanno portando i canti vedici in tutti questi luoghi e tutto iniziò nel 1962 il giorno compleanno di Swami quando Swami disse darò il via a questo Vedashastra Patashala ed è molto interessante sapere che accadero molte cose a Prashanti Nila che è la sua fonte e quei 30 ragazzi divennero poi 60 poi 100 e così via sono rimasti lì per pochi anni Swami chiarì una cosa per assicurarci che gli studi vedici e la saggezza vedica si diffondesse non può essere uno studio esclusivo da pannaggio di pochi ma deve entrare a far parte dell'istruzione secolare ed ecco perché è cresciuta in questa monumentale missione educativa che Swami ha donato a tutti noi stavo leggendo di questo Vedapathashale c'è questo episodio narrato da Padma Casturi perché suo figlio fu uno dei primi studenti a partecipare sua figlia in quei giorni c'erano due pozzi uno vicino al tempio di Ganesha e un altro vicino al Gopula uno veniva usato per bere acqua e l'altro per lavarsi e altri scopi quindi questi studenti del Vedapathashala dovevano dirigersi a quei pozzi per dei lavori e a volte quando il fiume citravati fluiva andavano a fare il bagno nel mattino questo avveniva dopo il Suprabhatan così un giorno Swami notò questi ragazzi che andavano nei diversi pozzi quindi fece una proposta egli divide tornare anche dal citravati cantando i bhajan per cercare di mantenere il pensiero focalizzato su Swami così Swami richiamò e disse loro se andate al citravati cantando i bhajan anziché venire dal mandir o da dove alloggiate perché non venite qui girando intorno al mandir e poi andate dritti quindi ovunque siate se andate lontano potete girare intorno al mandir cantare i bhajan e quindi quella divenne una pratica così avrebbero potuto cantare i bhajan intorno al mandir di Swami poi andare a fare il bagno e poi tornare indietro in modo che diventasse una pradaksina poi Swami disse ok fate i bhajans quindi immaginate che tutto è iniziato con un suggerimento semplice di Swami che poi è diventato il Nagar Sankirtan in realtà non solo è nato il Nagar Sankirtan a Prashanti ma si è diffuso in tutto il mondo e in diversi paesi del mondo la tradizione del Nagar Sankirtan continua ancora molte delle rappresentazioni che Swami mise in scena con gli studenti universitari il Radha Bhakti drama che è molto famoso il Markandeya drama quello sul Sakobai quello sul signore Shiva molte rappresentazioni teatrali che Swami scrisse personalmente compose anche delle canzoni che inizialmente mise in scena portò gli studenti in diverse città facendoli esibire infatti quei pochi anni hanno dato un'idea di ciò che Swami avrebbe investito nei giovani di questo paese il tempo e l'energia tempo e l'energia sono in realtà un modo piccolo di dire perché Swami ha investito tutto se stesso per il futuro di decine di giovani studenti e di come ciò avrebbe influenzato il futuro di questo paese e non solo ma del mondo intero che come ho detto quello fu l'inizio della missione educativa scolastica quindi il 1962 fu l'anno in cui Swami iniziò questo Vedashastra Patashala e da lì possiamo passare ad un altro compleanno per parlare di come questo crebbe in un albero gigantesco infatti in quell'occasione Swami disse che questa sarebbe diventata una grande università e sai nel nostro mondo limitato di pensare molti hanno inteso che sarebbe diventata una grande università vedica ma successivamente si è constatato che Swami voleva quella miscela cosa che si adattava ai tempi e Swami voleva una miscela di secolare e spirituale e il modo in cui Swami nutre gli studenti iniziò così il lavoro tutto il processo nella tradizione detta Gurukula gli insegnanti vivono con gli studenti gli studenti fanno tutto da soli e hanno uno sviluppo completo parlando del Nagar Sankirta mi sono ricordato anche riguardo il Suprabhatam che viene cantato era Swami che chiamava gli studenti e li faceva cantare per giorni e mesi li riuniva tutti insieme nella sua stanza finché non lo perfezionavano e poi in un giorno di buon auspicio di Shivaratri Swami fece iniziare questo canto al mattino e furono proprio i ragazzi del Veda Patashala ad iniziarlo a Prashanti quindi Swami si è donato totalmente per gli studenti e voleva che diventassero dei leaders degli strumenti per il cambiamento voleva che loro diventassero come portatori di una torcia luminosa per questa missione ed è così che nacquero i college nel 1981 sempre nel giorno del compleanno di Baba il 23 novembre il suo 56esimo anno Swami annunciò lo svolgimento dell'Istituto Superiore Jinsat Yassai e disse lo so che nel paese ci sono 108 università beh questa è la 109esima ma questa si distinguerà da tutto il resto sarà unica oggi inauguro quella piantina che era stata piantata le radici di quella pianta sono gli studenti questo albero crescerà maestoso e fornirà pace fornirà rifugio fornirà sicurezza centinaia e migliaia di persone e le radici devono essere forti gli studenti che sono le radici devono essere fermi perché quello è dove ogni cosa si dispiega dove ogni cosa si dispiega riposa qui è il luogo dove io concentrerò la mia attenzione mi assicurerò che le radici siano forti io innaffierò personalmente queste radici e questo è il modo in cui Swami ha donato se stesso agli studenti come ha detto molte volte io non ho alcuna proprietà diceva la mia proprietà sono questi giovani e anche se Swami ha innaffiato egli è il maestro giardiniere perché ha continuato a coltivare mente corpo e anima di molti di noi in molti modi dando anche l'opportunità a molti di fare parte di questa missione molti hanno avuto la fortuna di essere piccoli strumenti nelle mani del maestro giardiniere e visto che all'inizio stavi leggendo di Aurobindo non posso fare a meno di pensare al primo vice rettore dell'istituto di apprendimento superiore Sri Satyassai il professor Vinayaka Krishna Gokak lui fu uno studioso una persona molto devota a Sri Aurobindo aveva letto tutta la letteratura di Aurobindo e di Matamera ed era profondamente interessato a quella filosofia ed era un grande pensatore nel 1965 sai che era si trovava a Hyderabad aveva sentito parlare di Bhagavana ma lui non era interessato a nessun altro perché per lui Aurobindo era tutto e il signor Buram Krishna che era governatore del Kerala e dell'Uttar Pradesh tu sai quanto fosse devoto di Bhagavan lo invitò a tenere un discorso a Prashanti Vida Mahasar stiamo parlando degli anni 60 e Swami aveva iniziato questo Veda Pushana e aveva iniziato a condurre questi Vida Mahasaban in diverse città dell'Andra quindi in questi eventi parlavano eminenti personaggi e questo signor Gokak era molto conosciuto per la sua eloquenza e per la sua conoscenza delle scritture indiane e quindi gli fu chiesto di tenere un discorso e accettò ed egli disse che in quella occasione mentre iniziò a parlare in presenza di Bhagavan egli sperimentò un'espansione di coscienza e continuando a parlare sentì un'esperienza unica tutto il suo intero essere ebbe una rara esperienza di espansione e terminò il suo discorso sentendo che una presenza divina era entrata in lui e si sentì completo tutto il vuoto che aveva nel cuore scomparve questo vuoto era sopravvenuto dopo la morte di Aurobindo ma il maestro Aurobindo lasciò il corpo nel 1950 e lui era molto devoto ad Aurobindo e aveva sempre questo dolore al cuore ma quel giorno egli si sentì assolutamente completo ed egli iniziò a venire da Bhagavan e spesso Bhagavan andava anche a casa sua così in un'occasione andò a casa sua a Bangalore molte volte molte volte abbiamo raccontato che Suami visitava spesso le case dei devoti avrai sentito che Suami andò la prima volta nella stanza della sua Pugia ogni volta che andava da qualcuno andava direttamente in Pugia e ancora vi fu una visita non annunciata come accadeva per la maggior parte delle visite e Suami entrò nella casa di questo Go e il professore si sentì un po' diffidente cioè si spaventò e molto imbarazzato perché non aveva preparato il santuario nel santuario c'era solo una grande immagine di Aurobindo e in un angolo c'era una piccola foto di Bhagavan e quindi lui si sentì imbarazzato sai avrebbe dovuto avere una grande foto di Bhagavan disse Suami non me l'aveva detto che sarebbe venuto e chissà cosa proverà e aveva tutti questi sentimenti nel suo cuore e Suami andò dritto al santuario e c'era un fiore che era caduto da una foto e Suami raccolse quel fiore e Suami lo pose in cima alla foto di Aurobindo e per lui il professore fu un momento particolare da quel momento in poi ebbe la chiarezza e la convinzione che aveva ottenuto che quello che era così forte che passò ad approfondire la letteratura di Sai quindi con quella vasta conoscenza e padronanza dell'inglese e della filosofia che aveva leggendo la letteratura di Aurobindo e poi era giunto e poi solo immaginare la sua gioia nelle visite di Suami o scoprire la saggezza di Bhagavan infatti si dice che sia stato lui quello che è stato determinante nella definizione di questo sistema di educazione integrale perché tutti quei meravigliosi aspetti della cultura indiana e della spiritualità indiana che aveva assorbito nel corso dei decenni leggendo questi grandi maestri ora Edi si trovava di fronte al divino maestro stesso e così contribuì alla realizzazione dell'università c'è una conversazione molto bella raccontata da uno dei direttori di quell'epoca un giorno il professor Gokal era brindavan seduto fuori nella piccola stanza e stava componendo un'epica del Bharata Sindhu Rashmi era un'epopea sulla vita di Santi re dei tempi velici quindi mentre era impegnato in questo compito il direttore andò da lui e iniziarono una conversazione informale e disse quando è che sarà pubblicata questa epopea il professor Gokal lo guardò e disse siediti era una sera era sera tutto si era fatto buio e gli disse cosa vedi in cima e lui rispose vedo le stelle stelle scintillanti e poi dice sì ma non sono semplicemente stelle splendenti è Dio è un'epica divina dipinta da Dio sulla tela del cielo non si tratta solo di stelle scintillanti e disse sì signore e cosa succede al mattino le stelle non sono là e lui dice anche quello è Dio ogni sera egli crea questa epica meravigliosa e il mattino seguente non c'è più è come se un bambino arriva al mare crea bellissimi castelli e il bambino non si preoccupa se qualcuno li guarderà come quando qualcuno fa una foto e poi la pubblica su Instagram e questa diventa virale il bambino non è interessato a questo il bambino crea il castello perché sente la gioia dell'esistenza dentro di lui ma al momento successivo non c'è più il castello non c'è bisogno di fare nient'altro tutta la gioia emerge nel momento in cui si crea qualcosa e poi disse quando Dio crea questa epopea ogni sera non aspetta che i pittori la guardino e preghino non è in cerca di scrittori che la guardino affinché poi scrivino poemi non aspetta un Cameron che la riprenda lodandola e gli crea per mezzo della sua gioia dell'esistenza noi umani facciamo piccole cose e poi attendiamo che qualcuno li pubblichi e disse noi possiamo veramente sperimentare la vita solo quando sperimentiamo la gioia dell'esistenza nell'insegnante in quel momento si sentì così piccolo per aver fatto una domanda così superflua ad un uomo che aveva una mente così brillante e gli stava dicendo che finché non realizzeremo la gioia dell'esistenza finché non troveremo la gioia dell'esistenza inseguiremo queste piccole cose preoccupandoci di quando verrà pubblicato questo quando qualcuno lo leggerà che cosa ha commentato quanti like ha ottenuto ecco ecco questo era il professor Vinaka Krishna Gokha primo vice direttore devoto discepolo di Aurobindo quanto era ordinata la sua mente aveva davvero un certo tipo di chiarezza e questa è la chiarezza che si è radicata negli studenti poiché lui ha avuto molti mandati da vice direttore da quando era stato inaugurato l'università e quando penso che Bhagavan ha creato questi istituti portando queste anime così belle dando a loro anche l'opportunità di essere parte di questo bellissimo rimodellamento dell'umanità e l'università festeggia il suo compleanno ed è collegata con il compleanno di Bhagavan del 1981 questo collegamento continua sì è assolutamente vero e come hai detto ci viene in mente quanto Swami abbia nutrito gli studenti infatti una delle cose che Swami ha detto è che se volete coltivare una pianta dovete innaffiare le radici e le radici sono gli studenti e il frutto che vedrete sarà la trasformazione che avverrà nella società in generale proprio grazie agli studenti ricordo un episodio molto semplice ma bello narrato da un ex studente che ha studiato al college di arte e scienza ecco non si era ancora arrivato all'università lui proveniva da un ambiente molto umile di Anantapur facendo tutti gli studi alle medie in Telegu ma comunque era uno studente brillante avendo ottenuto diverse promozioni era una cosa importante in quei giorni ed essendo giovane era poi unito al college di Swami per fare il corso pre-universitario un giorno Swami si avvicinò a lui chiedendo di come stava e come si trovava in classe con le lezioni e questo ragazzo rispondendo a Swami in modo esitante disse Swami non sono in grado di seguire ciò che viene detto durante le lezioni perché loro parlano tutti in inglese e il mio inglese non è così buono e Swami disse chi sono i tuoi insegnanti ovviamente non potevano rispondere a quella domanda e con molta esitazione nominò due insegnanti un po' di insegnanti e Swami gli dice due di questi insegnanti vengono da fuori quindi non è appropriato dire nulla ma il terzo insegnante lo posso dire perché è stato uno studente di Swami che poi è diventato insegnante allora Swami si guardò indietro e chiamò quel terzo insegnante e disse che senso ha che vai in classe a tenere le lezioni come un registratore riportando quello che hai imparato non è tuo dover assicurarti che i tuoi studenti comprendano quello che insegni e poi Swami disse guarda questo ragazzo dice che il tuo insegnamento è troppo veloce e non riesce a seguirlo e questo giovane ragazzo si sentì un po' spaventato perché come stava andando la cosa perché sembrava che si fosse lamentato dall'insegnante con Swami e si stava chiedendo quali ripercussioni avrebbe avuto era un po' paranoico riguardo alla questione ma poi raccontò che l'insegnante prese la cosa in modo sportivo e c'era un difetto nel modo in cui si stava comportando e che era un'offerta a Swami che Swami gli stava spiegando come migliorare quindi se ne andò e il suo approccio di insegnamento cambiò poi Swami chiamò il responsabile del dipartimento di quella materia e disse guarda ciò che sta dicendo il ragazzo non dovresti fare qualcosa quindi si è riunito tutto il dipartimento per chiarire quali altri problemi ci fossero con gli studenti e chiamò gli studenti a vivere nell'ostello in modo che chiamò gli insegnanti a vivere con gli studenti nell'ostello in modo che potessero seguire le lezioni alla sera e gli altri compagni di classe e vagliassero i vari problemi c'era chi non capiva la lingua chi non riusciva a scrivere le lettere in inglese al padre allora questo ragazzo scrive allora questo ragazzo scriverà lettere in inglese al padre quest'altro controllerà eventuali errori di scrittura che deve migliorare quindi iniziò la sua carriera pre-universitaria come studente di seconda classe attraversando vari livelli fino a laurearsi quindi questa non è semplicemente la venuta di Swami con le sue benedizioni questo è l'amore di Swami riversato su tutti intorno e che ha nutrito tutti e quando pensi che quando innaffi una pianta non puoi essere sicuro di versare l'acqua direttamente sulle radici ma è vero che versi l'acqua intorno al terreno e quel terreno nutre le radici e quando osservi tutta la configurazione che Swami ha fatto attraverso l'università io penso che ognuno di noi sia quella radice e noi stavamo ricevendo l'acqua direttamente da Swami ma lui innaffiava anche le persone intorno a noi riversando il suo amore a tutte le persone intorno a noi e loro in cambio ci aiutavano a crescere e come hai detto tu come Swami abbia scelto persone meravigliose a svolgere questi ruoli importanti in queste istituzioni mi ricordo il racconto fatto da Abdul Razak Corbu non era una facoltà era una facoltà in visita cioè l'università aveva pubblicato degli inviti per facoltà in visita in vari campi e varie materie quindi questo professore aveva fatto domanda ma poi seppe che altri avevano fatto domanda per lo stesso posto di facoltà da tutto il mondo da Oxford e Cambridge e quindi lui disse che non avrebbe mai potuto essere selezionato e disse Swami pensavo che mi avesse dato l'opportunità di servirlo ma poi con la sua sorpresa ricevette una chiamata che era stato selezionato per questa facoltà si è stato selezionato quindi lui inizia a frequentare le lezioni e quando ha l'opportunità di parlare con qualcuno dell'amministrazione chiede come mai l'avevano scelto c'erano così tante persone eminenti che hanno fatto domanda e loro dissero ti racconteremo com'è successo abbiamo ricevuto migliaia di richieste per questi 12 argomenti non ricordo bene 10 12 argomenti per le quali avevamo bisogno di 12 docenti in visita quindi non c'era modo di fare la selezione allora ci siamo rivolti a Swami dicendo Swami questa è la situazione non sappiamo cosa fare allora Swami disse ok verrò in amministrazione dispone tutte le domande sul tavolo e poi Swami venne e scelse le 12 richieste e quindi furono scelte 12 persone differenti e Swami venne e scelse effettivamente 12 moduli di domande quindi quelle 12 persone furono scelte direttamente da Swami quindi a qualche persona eminente veniva data questa opportunità da un'altra parte serviva a ricordare che non si trattava di merito giusto? non si trattava di eccellenza era qualcosa di più che Swami aveva scelto cioè persone che avrebbero alimentato queste istituzioni e parlando dell'arrivo di Swami all'edificio amministrativo anche questo blocco è collegato ad un compleanno di Swami perché fu nel 1982 che fu inaugurato da Swami ed era stato progettato da Swami stesso compresa l'architettura infatti se andiamo all'edificio anche oggi ci viene detto questo è stato posizionato da Swami questo dipinto di Swami ha voluto che fosse messo qui questo tavolo Swami ha voluto che fosse qui questa sedia è stata messa qui da Swami quanto siamo fortunati a vivere in questo Prashantinilayam dove tutto è stato scelto e curato da Swami quando l'università veniva costruita abbiamo chiesto alla commissione per avere sovvenzioni universitarie affinché ci desse lo status di università perché avevamo tre campus uno a Brindavan affiliato all'università di Bangalore poi avevamo il college femminile di Anantapura che è stato il primo ad essere aperto e poi venne fondato quello a Prashanti ed è stato allora che Swami disse rendiamolo una università e l'idea stessa dell'università era molto profonda come ha detto nel paese c'erano già molte università ma Swami disse che questa doveva essere diversa e per distinguersi doveva essere autonoma e quindi c'era questa aspirazione dello status universitario e la commissione venne con una squadra per esaminare la petizione che era stata presentata e come membro del comitato fu inviato il vice direttore dell'università di Benares dottor Viesia doveva valutare i collegi e fece una bellissima dichiarazione lei disse sono venuto come critico e sono rimasto per pregare poi aggiunse non esiste altra istituzione che meriti questo status come questa speriamo che diventi un faro per tutte le università e poi aggiunse un'altra frase mentre parlava con gli ex studenti del college questa università non ha bisogno di guardare altrove perché l'università merita il vice lettore merita o gli ex alunni provvederanno alle necessità dell'università ed è motivo di orgoglio per tutti noi aver avuto ieri il 22 novembre la 42esima convocazione e per la prima volta il vice lettore dell'università il professor Gavendra Prasada che è un orgoglioso ex alunno del college di Swami quindi immaginiamo che la prima persona che è venuta a dare lo status di università ha detto che il vice lettore di questa università sarà un ex studente e questo è successo proprio oggi e questo è bello e il circolo è completo e tutto il nutrimento ricevuto di cui si è detto Swami lo disse in quel discorso e lo aveva detto anche agli insegnanti Swami diceva voi prendetevi cura di tutta l'istruzione e di tutto ciò che deve essere fatto io penserò a nutrire le radici e Swami più tardi ha dichiarato il 70% del mio tempo l'ho dedicato agli studenti ed è così che ci ha nutriti non facendoci regali non è stato dando una istruzione gratuita ma è stato donando a se stesso e tutti noi siamo stati destinatari di quel dono più grande assolutamente in effetti sai mentre parlavi di come Swami scelse personalmente quei 12 candidati in effetti se prendiamo le storie di chiunque facesse parte della missione di Bhagavan in quei giorni e anche adesso penso che quella storia continui ma abbiamo parlato del primo vicerettore e ora sapete che anche l'attuale vicerettore è un ex allievo se torniamo alla storia del primo cancelliere dell'università il signor Cekravarti che attualmente è il rettore della nostra università egli era qualcuno che aveva fatto AIS e anche se nato in una devota famiglia Vaisnavita non aveva mai visitato nessun ashram o nessun uomo santo ma ovviamente aveva grandi inclinazioni spirituali e nel 1975 fu nominato esattore del distretto di Anantapura e così in quel periodo il sovrintendente della polizia gli disse che Bhagavan era qui in effetti dicono che il motivo per cui voleva essere ad Anantapura era che voleva essere vicino a Tirupati perché in qualche modo è sempre stato molto attratto da Tirupati e non sapeva che sarebbe stata a Puttaparti quindi anche sua moglie la signora Suda era una persona molto devota ed è stata anche lei artefice ad esortarlo gli diceva vai a vedere Bhagavan e quindi alla fine accettò di venire per il suo Darsha nel 1975 e così lungo percorso disse alla sua moglie se mai riusciremo ad ottenere un'udienza con Sai Baba voglio che mi spieghi il 18 capitolo della Bhagavad Gita questo era nella sua mente in qualche modo voleva avere più chiarezza su questo argomento e così vengono qui e Swami li chiama in interview e nel momento in cui Swami guardò Chakravarti Swami gli dice io sono nuovo per te ma tu non sei nuovo per me Swami dice potrei essere nuovo per te ma tu non sei nuovo per me e poi Swami inizia ad avere questa conversazione con loro e Chakravarti dice immaginate la situazione in cui conosci qualcuno dopo da tanti anni uno che ti conosce in fondo e dopo tanti anni lo incontri incontri una persona simile incontri quella persona che sa tutto di te e sai che potrai essere te stesso con quella persona loro sentivano di aver trovato quella persona quel giorno e quella conversazione andò bene andò bene e compresero che avevano trovato tutto della loro vita e proprio mentre Swami stava parlando con loro improvvisamente cambiò discorso e iniziò a parlare del diciottesimo capitolo della Bhagavad Gita e quindi immediatamente egli ebbe quel flash sapeva che stava andando che Bhagavan stava andando in quella bellissima stava avendo quella bellissima conversazione con lui quindi dopo quello non c'era più bisogno di guardarsi indietro era un collettore quindi ogni settimana cominciò a venire apprascianti ebbe tante esperienze e tanti sogni anche sua moglie ebbe momenti molto potenti con Bhagavan con tanti doni e benedizioni e questo continuò e non mancava mai di venire apprascianti durante il weekend e anche Bhagavan ogni volta che gli parlava era lì nel fine settimana Swami lo chiamava e gli riversava tanto amore quindi non c'è mai stato un momento in cui non venisse a puttaparti durante il weekend e non gli parlasse Swami sapete sarebbe sempre è sempre stato lì e lui cercava il permesso per poter star lì così nel 1976 ci fu un'occasione in cui dopo essere venuto a prascianti per più di un anno e nel trascorso molto tempo con Bhagavan venne a fargli visita il chakravarti che Swami è molto busy ma se non 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 vedo il chakravarti lo vide la mattina durante l'ora del darshan lui vide il suami ma il suami non lo vide il suami era nell'auditorio Purnachandra e il suami inviò un messaggio tramite il segretario dell'ashram dicendo devi dire a chakravarti che sono molto occupato e quindi di andare pure perché non posso incontrarlo oggi potrebbe volerci molto tempo e quindi se ha del lavoro da fare è giusto che vada e chakravarti disse no no per favore devi dire a Swami che io aspetterò non ho niente di importante da fare quindi aspetterò e così il messaggio ritornò a Swami e poi gli aspetta e dopo un'ora arriva di nuovo il segretario Kundalarao gli dice Swami ha inviato un messaggio dice che se stai facendo tardi puoi andare perché Swami non ha tempo sta facendo delle cose nell'auditorio Purnachandra e non può venire e lui dice no no io sono libero e aspetterò e ancora una volta il messaggio fu riportato a Bhagavan dopo due ore per la terza volta arriva di nuovo Kundalarao e gli dice Kundalarao e gli dice Swami ha inviato di nuovo un messaggio dice che puoi andare perché lui è impegnato e ha tantissime cose da fare nell'auditorio Purnachandra non può vederti oggi quindi la prossima volta che verrai ti vedrà ora puoi andare e ancora Chakravarti dice no per favore comunica a Swami che non andrò che sono pronto ad aspettare per qualsiasi periodo di tempo non c'è niente di più significativo di questo per me e quindi lui rimane quindi dopo tre di questi messaggi consecutivi dopo mezzogiorno riceve una chiamata e Swami dice ok digli di venire e quindi il signor Chakravarti arriva nell'auditorio Purnachandra e Swami stava guardando una prova teatrale Swami era con gli studenti nel momento in cui Swami vede Chakravarti gli materializza un laddu e Swami glielo dà e poi insieme guardano il programma e Swami lo benedice profusamente e se ne va un anno dopo il signor Chakravarti viene a sapere cosa era effettivamente accaduto in quelle tre ore quella mattina quindi il dottor Bhagavantama era con Bhagavan così quando quei messaggi andavano avanti e indietro da Chakravarti a Bhagavan fu allora che il dottor Bhagavantama rivelò a Chakravarti che Swami aveva detto vedi Chakravarti è qui Swami sta dicendo a dottor Bhagavantama Chakravarti è qui se oggi non se ne va e continua a restare la sua vita prenderà una nuova direzione ma se decide di andarsene prenderà una svolta diversa e quella scelta che fece quel giorno fece la differenza nella sua vita il signor Chakravarti è stato il primo cancelliere più tardi divenne segretario del Trust Central Trust fiduciario e ovviamente è il rettore dell'università ma quando si tratta di Dio e del mondo quando si tratta di Bhagavan e di qualsiasi altra cosa quale dovrebbe essere la nostra priorità con quanta fermezza con quanta fermezza dovremmo scegliere sceglierlo questo venne poi alla ribalta in modo ancora più evidente quando completò vent'anni nella IS era conosciuto per la sua competenza era conosciuto per la sua integrità e trasparenza e sapete è venuto da Bhagavan e disse Suami ho completato vent'anni nella IAS e aveva cinquant'anni e disse Suami se mi dai un'opportunità io mi ritiro e voglio servire solo te ma Suami dice cosa perché sei così giovane stai andando così bene continua pure a servire nel governo diventerai primo segretario di stato perché vuoi andare in pensione così presto e Chakravarti dice Suami voglio dedicarmi a te adesso che ho buona salute che ho energia e ho entusiasmo e adesso che voglio essere coinvolto nel tuo lavoro non so quando andrò in pensione quali condizioni di salute avrò quanto potrò contribuire per favore darmi ora la possibilità e Suami semplicemente lo benedice non dice nulla è il 1980 e nel luglio 81 Bhagavan lo chiama improvvisamente fu allora che iniziarono le fasi iniziali della formazione delle regole dell'università Suami voleva che facesse parte di quel comitato e chiede di forma alle procedure e ai sistemi che poi vennero alla luce quando Bhagavan inaugurò l'università e Bhagavan gli diede l'opportunità e l'onore di essere il primo cancilliere dell'istituto di studi superiore Zrisatiassai la scelta la scelta che fece la scelta che dovremmo fare la scelta che fa Swami tutto è così chiaro tutto si riduce a dove dovrebbero essere le nostre priorità dove dovrebbe essere la nostra attenzione attraverso tutte queste belle persone portate da Bhagavan la missione di giardinaggio di Swami è continuata e il maestro giardiniere continua a scegliere i suoi studenti a scegliere le persone che saranno con gli studenti e guideranno gli studenti e parlando di tutti questi momenti di compleanno cari ascoltatori come abbiamo detto c'è molto di più in ogni istituzione qui infatti l'ospedale generale ha un collegamento con il compleanno di Swami sapete l'ospedale super specializzato di Prashanti è collegato al compleanno di Swami così come i progetti idrici il planetarium il servadarmastupa il gopuram il vidyavahini il nostro media center cioè Radio Sai sono tutti collegati col compleanno di Baba ma abbiamo appena messo in evidenza alcuni di questi bellissimi momenti in questa occasione stupenda del compleanno di Baba per poterli ricordare tutti ma cosa c'è più importante che festeggiare il compleanno di Swami ricordo che in uno dei discorsi Swami durante le celebrazioni del suo compleanno fece questa affermazione quasi a un certo punto disse non siete troppo piccoli per celebrare il compleanno dell'Avatar cioè voglio dire qual è il nostro intelletto qual è la nostra capacità di poter celebrare l'Avatar Swami ha detto celebrate invece la nascita del mio messaggio nella vostra mente questo è il compleanno che voglio che voi festeggiate e voglio che celebrate il mio messaggio che cresce nella vostra mente celebrate le pietre miliari di quella crescita che bello profondo risveglio per ognuno di noi ci dà così tanta gioia celebrare il compleanno di Swami e perché no è una delle occasioni più felici della nostra vita sicuramente dobbiamo celebrare il compleanno di Swami indossare gli abiti più belli lasciare che i festeggiamenti siano sempre presenti ma la lezione più profonda di ciò che Swami ha portato attraverso tutto questo processo ogni istituzione che ha creato era quello lo scopo ogni singolo momento del tempo che Swami ha trascorso con ognuno di noi è stato finalizzato con lo scopo perché il suo messaggio possa avere nella nostra mente il suo compleanno e crescere in modo tale che noi non dobbiamo essere diversi da lui giusto penso che questa sia l'idea stessa dell'arrivo di Swami nelle nostre vite come abbiamo detto ci sono molti altri momenti di compleanno che possiamo parlare sì assolutamente mentre Prem parla di come dovremmo imparare ad espandere il nostro cuore ricordo che un'altra volta avremmo raccontato un'altra volta racconteremo la storia dell'ospedale nell'inaugurazione dell'ospedale Swami disse se vuoi dare per me un regalo di compleanno c'è solo un regalo che voglio per favore espandi il tuo cuore se guardi l'ospedale ha queste due braccia che abbracciano tutti colori che ne fanno parte tutti dicono che non è un ospedale è un palazzo è un tempio tutte le istituzioni sono templi tempi della guarigione dell'apprendimento dell'educazione dove tutto è solo un tempio e Bhagavan vuole proprio come che tutti questi templi incarnino lo spirito di grande cuore e questo è l'unico dono che Swami ha detto se volete farmi un regalo questo è il dono e senza paura con gioia dovremmo espandere questo bellissimo cuore che Bhagavan ci ha dato ogni cuore jri satya saike saat perché in ogni cuore c'è sai in ogni cuore non c'è paura perché il primo messaggio di Prashant il primo messaggio che Bhagavan ha dato il giorno in cui Bhagavan ci ha regalato Prashantiline è stato perché temere quando sono qui quindi ogni cuore è pieno di gioia ogni cuore non ha paura ogni cuore sa che Dio è qui ogni cuore sa che è qui solo per esserci per gli altri se possiamo coltivare ampliare e rendere questo sentimento espanso grandioso glorioso penso che non ci sia nient'altro che dobbiamo fare per rendere questo compleanno per fare che questo compleanno sia il nostro compleanno glorioso grazie mille per essere stati con noi se Swami vuole ci vedremo presto in questo satsang è stato davvero un grande onore essere con voi condividere questi momenti meravigliosi e magici del compleanno di Swami con noi e tutti grazie mille Saran Saran grazie mille grazie mille